Benvenuti amici in un nuovo video del nostro canale Serie TV Mania. La nona stagione del Paradiso delle Signore è tornata su Rai 1 e i fan sono già stati catapultati in un vortice di intrighi e colpi di scena. Tra i protagonisti che hanno segnato questo inizio di stagione, uno in particolare sta rubando la scena e alimentando i dubbi del pubblico, Enrico Brancaccio. Ma chi è davvero questo nuovo personaggio? Quale segreto nasconde dietro il suo nome e i suoi atteggiamenti misteriosi? Oggi sveliamo tutti i dettagli su di lui e cosa potrebbe accadere nelle prossime puntate. Fin dal suo arrivo al Paradiso delle Signore, Enrico Brancaccio ha attirato l'attenzione dei telespettatori. Il suo ingresso è stato tutt'altro che convenzionale. Incontriamo questo enigmatico personaggio per la prima volta davanti ad una bancarella, dove si scontra con una delle figure più amate della SOP, Marta Guarnieri. La scena è carica di tensione. Entrambi vogliono acquistare la stessa foto da una bancarella e nessuno dei due sembra disposto a cedere. Questo primo confronto tra Marta ed Enrico segna l'inizio di un rapporto complesso e ricco di sfumature. In seguito lo vediamo arrivare al Paradiso per lavorare sotto la direzione di Armando Ferraris. Ma come mai Enrico, un perfetto sconosciuto, riesce ad ottenere un lavoro in uno dei grandi magazzini più prestigiosi di Milano? La risposta sembra nascondersi dietro un misterioso favore che Armando deve ad un caro amico. Ma chi è davvero quest'amico? E perché Enrico sembra muoversi sempre con un'aura di sospetto e di cautela? Fin da subito è chiaro che c'è qualcosa che non torna nella sua storia. Il mistero che circonda Enrico si infittisce quando, in una scena chiave, viene rivelato che il suo cognome non è affatto brancaccio. A un certo punto, un carabiniere amico di Armando si reca da Enrico per consegnargli un nuovo documento. La scena è intensa. Il carabiniere lo avverte che il Ferraris sta iniziando a sospettare di lui. Enrico, preso alla sprovvista, prende il nuovo documento e, senza esitazione, brucia il vecchio, su cui si legge chiaramente un nome diverso. Proietti. Questo è il primo colpo di scena che lascia il pubblico senza parole. La domanda sorge spontanea. Perché Enrico ha mentito sulla sua identità? Il vero nome di Enrico è, in realtà, Proietti, e non Brancaccio, come aveva dichiarato al momento della sua assunzione. Ma cosa lo ha spinto a nascondere il suo vero cognome? Il fatto che debba bruciare il documento fa pensare a un passato oscuro, a una verità che Enrico teme possa venire alla luce e cambiare tutto. Le rivelazioni, però, non finiscono qui. Nel documento che Enrico brucia emerge un ulteriore dettaglio sul suo passato. Di professione è un medico. Questo elemento getta ulteriore mistero sulla sua figura. Se è davvero un medico, perché lavora come dipendente al Paradiso delle Signore? Sta scappando da qualcosa o qualcuno? Sembra che dietro il suo arrivo si cieli un segreto molto più grande di quanto si potesse immaginare. Ma le sorprese non sono finite qui. Ci sono altri dettagli che potremmo aver trascurato su Enrico Brancaccio. Ad esempio, avete notato come si comporta quando qualcuno gli chiede del suo passato? È sempre evasivo, quasi come se nascondesse qualcosa di molto più grande. E perché il carabiniere gli ha chiesto di non socializzare con nessuno al Paradiso? Potrebbe significare che il segreto che nasconde sia collegato a un pericolo imminente. Le anticipazioni sottolineano che la sua identità e il suo passato sono legati a un pericolo. Non è un caso che il carabiniere Gali abbia detto chiaramente di evitare di socializzare con chiunque al Paradiso. Ma qual è la natura di questo pericolo? Sta forse nascondendosi da qualcuno? O è coinvolto in un evento così drammatico da dover cambiare completamente la sua vita e identità? Ogni volta che Enrico compare sulla scena, i suoi movimenti e le sue parole sono cariche di significato nascosto. E lo spettatore non può fare a meno di cercare indizi sul suo passato e sul motivo per cui è così restio a rivelarsi. Un altro dettaglio importante riguarda proprio il carabiniere che lo raggiunge. Non sembra essere un semplice portatore di un nuovo documento, ma qualcuno che è profondamente coinvolto nella vita di Enrico. Il suo tono è preoccupato quando gli dice di non avvicinarsi a nessuno e di non socializzare. Questo fa capire che il pericolo che minaccia Enrico è reale e, probabilmente, ha a che fare con un passato da cui sta cercando disperatamente di fuggire. C'è chi ipotizza che Enrico possa essere coinvolto in qualche caso giudiziario, o che sia in fuga da una situazione così intricata da averlo costretto a cambiare nome e identità. Il suo legame con il carabiniere potrebbe essere un indizio fondamentale per svelare la verità su di lui. Tuttavia, la sua natura di fuggitivo e in cerca di anonimato crea un mix perfetto di suspense e dramma, ingredienti che stanno tenendo i telespettatori incollati ugly schermi. Inoltre, come mai Enrico ha scelto proprio il paradiso delle signore per nascondersi? Sappiamo che lavorare lì potrebbe offrirgli una copertura perfetta, ma è possibile che sia legato a qualcuno del passato di Marta Guarnieri o di altri personaggi della SOP? Se così fosse, il suo arrivo potrebbe sconvolgere tutte le relazioni all'interno del paradiso. Voi che ne pensate? Vi siete fatti un'idea di cosa potrebbe nascondere? Nel frattempo, la storia di Enrico si intreccia sempre più con quella di Marta Guarnieri. Dopo lo scontro iniziale al mercatino, i due si trovano a condividere sempre più momenti insieme al paradiso. Marta, che di recente ha finalmente superato il suo amore travagliato per Vittorio Conti, nota con crescente interesse il comportamento di Enrico. Ed è proprio il gesto di lui, nel riparare il teatrino per i bambini della casa famiglia, a colpirla profondamente. Dietro quell'aria distaccata e diffidente, Marta vede in Enrico una persona sensibile e capace di grandi gesti di bontà. Le anticipazioni lasciano intendere che il loro rapporto potrebbe evolversi, ma questa non sarebbe una semplice storia d'amore. Marta si avvicina ad Enrico senza sapere nulla del suo passato e del pericolo che lo circonda. Se tra loro dovesse nascere un sentimento, potrebbe essere l'inizio di un nuovo dramma per la giovane Guarnieri. Il coinvolgimento emotivo. Tra i due rischia di diventare un punto cruciale della storia, una bomba pronta ad esplodere quando la verità su Enrico verrà finalmente rivelata. Il coinvolgimento di Enrico al Paradiso delle Signore ha il potenziale per sconvolgere l'intera SOP. Armando, che gli ha dato un lavoro per saldare un vecchio favore, si troverà a fare i conti con una realtà ben diversa da quella che aveva immaginato. Gli altri personaggi, ignari di ciò che nasconde il nuovo arrivato, potrebbero finire invischiati in una rete di intrighi pericolosi. Il suo arrivo al Paradiso ha già cominciato a sollevare interrogativi. Perché proprio ora? Cosa lo ha spinto a scegliere questo luogo e queste persone? C'è un collegamento con il passato di qualcuno dei protagonisti? O è solo una coincidenza? Il pubblico è in fermento, mentre la storia si sviluppa lasciando intravedere sempre più dettagli che puntano verso una rivelazione sconvolgente. E ora tocca a voi. Cosa pensate che nasconda Enrico Proietti? Quale segreto oscuro lo costringe a vivere con un'identità falsa e a stare lontano da tutti? Pensate che Marta stia facendo bene ad avvicinarsi a lui? O finirà solo col farsi male? Lasciate le vostre teorie nei commenti e discutiamo insieme su cosa potrebbe accadere nelle prossime puntate. Non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi aggiornamenti su questo incredibile intreccio. Ogni indizio fa capire che la storia di Enrico è destinata a diventare uno degli archi narrativi più avvincenti della stagione. Il suo passato oscuro è una bomba a orologeria che potrebbe sconvolgere il paradiso e i suoi protagonisti. Marta sarà in grado di affrontare la verità quando verrà svelata o la sua vicinanza ad Enrico la porterà in un vortice di complicazioni. E Armando? Come reagirà quando scoprirà la vera natura dell'uomo a cui ha dato fiducia? Se anche tu non vedi l'ora di scoprire i segreti che stanno per essere svelati al paradiso delle Signore, lascia un like e iscriviti al canale. Insieme scopriremo tutti i dettagli e commenteremo gli sviluppi più clamorosi. Clicca sulla campanella per rimanere aggiornato su ogni nuova rivelazione. Per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo, cari amici ed amiche.